Stadio Francioni di Latina, Latina Benevento, non è un momento favorevole per le due squadre, i nerazzurri non vincono da tre partite consecutive, tra le muramiche non festeggiano dal 25 ottobre, i giallorossi hanno vinto appena una delle ultime quattro gare e sono reduci dai pesanti K.O. nei derby con Juve Stabia e Avellino, sono tre i prunti che separano le due compagini, 26 il Latina, 29 il Benevento. L'avvio è scoppiettante perché ci sono tante opportunità da gol, soprattutto per il Latina che si presenta in avanti con Riccardi, tiro fuori. Dopo pochi secondi ancora Latina, protagonista con Fabrizi che si presenta in area di rigore, conclusione sull'esterno della rete. La risposta del Benevento è affidata a questa opportunità per Improta, facile la parata per Cardinali. Al quattordicesimo il Latina protesta per il tocco con il braccio di El Kaukibi, non c'è nulla per l'arbitro della Rio che lascia correre, protesta soprattutto Fabrizi. Dall'altra parte è Karic a coordinarsi, pallone respinto. Benevento attivo sugli sviluppi di calcio piazzato con il colpo di testa di Ferranti in anticipo sul primo palo. Ancora dalla destra il Benevento spinge soprattutto da quella parte nel primo tempo Improta impegna Cardinali. Nella ripresa Masciangelo arriva alla conclusione dopo lo scambio con Marotta rimane in piedi Cardinali. Ferrante sguscia via, cerca di duellare con Rocchi che lo chiude sul più bello. Al sessantasettesimo opportunità per il Latina con il colpo di testa del difensore Marino. Paleari blocca senza problemi. Altro calcio piazzato, questa volta Cardinali se la cava in qualche modo e poi El Cauquebi deposita sul fondo. Altro cross, Serbuti finisce addosso ai cartelloni pubblicitari e termina anzitempo la propria partita per il colpo subito. Pinato uscito dalla panchina, ottima parata di Cardinali, la più difficile della serata per il portiere del Latina. Marotta pescato in area, ancora Marino protagonista con un'ottima chiusura. Il Benevento spinge sulla destra, il cross in mezzo, è bravo Ercolano in chiusura. Anche lui uscito dalla panchina. Negli ultimi minuti le squadre si allungano. Crecco poco convinto nel tiro. Fella lavora questo pallone. Lo gioca per Ercolano con il mancino. Facile la presa per Paleari. In pieno recupero la miglior chance da gol della serata. Marotta alto sopra la traversa per il Benevento. Solo una vittoria nelle ultime sei partite i minuti senza gol diventano 321. Secondo pari di fila per il Latina.